Lo capisci che non puoi trattarmi così davanti a lui. Lo capisci? Potremmo almeno sederci e mangiare un pezzo di pizza insieme. Cerchiamo di comportarci da lui. Le cose... Le cose che dovevamo dirci ce le siamo già dette, Walt. Sono stata abbastanza chiara, se non sbaglio. Ho preso anche i corstini. Jesse, spegni quell'accendino. Lui ha avvelenato un ragazzino. Un bambino di otto anni solo perché... Perché lui voleva manovrarmi. Walt è un bastardo. Non è più un segreto, ne parleremo. Ma adesso devi spegnere quell'accendino. Jesse, io ti voglio aiutare. E tu non vuoi essere ucciso. Quindi spegnilo. No, lui non può continuare a fare sempre quello che vuole. Chi cazzo sei? Andiamo. Tutti voi sapete bene chi sono. Dì il mio nome. Cosa? Io non ne ho la più pallida idea. Non lo so chi sei. Sì, invece. Sono il cuoco. Io sono l'uomo che ha ucciso Gus Fring. Stronzate. L'ha fatto fuori il cartello. Ne sei sicuro? Molto bene. E adesso? Dì il mio nome. Sei Heisenberg. Hai maledettamente ragione. Chi pensi di avere davanti? Lo sai quanto guadagno in un anno? Anche se te lo dicessi non ci crederesti. Sai che succederebbe se di punto in bianco non andassi più al lavoro? Che un'impresa che ha il giro d'affari di una multinazionale chiuderebbe? Sparirebbe. Non esisterebbe più senza di me. No, è chiaro. È evidente che non sai con chi stai parlando. Ti comunico che non mi stanno minacciando Skyler. Sono io la minaccia. Se sparassero a chi apre quella porta morirei io? No. A me non possono sparare. Per cosa mi stai pregando? Sei l'uomo più intelligente che conosca. Eppure sei così stupido. Lui ha deciso dieci minuti fa. Fa quello che... Eppure sei così stupido. Eppure sei così stupido. Grazie a tutti.